Musica Taglia il traguardo della quindicesima edizione La Festa della Fisarmonica che giovedì 18 aprile torna al ristorante La Giara di Santa Maria dell'Arzilla con una rassegna nazionale in grande stile nel solco dell'anno di Pesaro Capitale della Cultura 2024 Un'emozione importante perché comunque è nell'ambito Pesaro Capitale della Cultura 2024 per cui rispecchia tantissimo la cultura della fisarmonica è inerente e va a braccetto con la cucina con quello che cucineremo quella sera lì perché comunque è dell'arte contadina la fisarmonica è uno strumento antico, è uno strumento popolare per cui rispecchia le buone tagliatelle un buon coniglio in porchetta come si faceva una volta perché comunque è nata poi sostanzialmente la Zara la fisarmonica è nata un po' da lì spostare due seggiole, spostare i tavolini e mettersi in pista con uno che strimpelava la fisarmonica e si ballava fino a tarda notte Siamo partiti da nulla ci è venuta questa idea e c'è arrivare qui alla quindicesima e a pensare che già da due settimane tutto soldato, il ristorante ci fa solo che è immensamente piacere Anche quest'anno abbiamo un cast di fisarmonicisti veramente eccezionali vengono da tutte le parti d'Italia fisarmonicisti che spaziano dei vari generi musicali dal popolare, al jazz, al varieté, eccetera sono 22 addirittura quest'anno abbiamo addirittura ci hanno addirittura chiamato alcuni autisti perché ormai dopo 15 anni la cosa piace sanno che c'è un bel riscontro, un bel eco per cui veramente siamo felicissimi La festa della fisarmonica sostenuta dal contributo di Banca di Pesaro sarà condotta da Francesca Guidi e Giampiero Vincenzi alla presenza dei migliori interpreti della scena musicale nazionale della fisarmonica e della musica popolare dalle presenze straordinarie del re del liscio Mirko Casadei a Luca Sbardella dell'orchestra RAI di Sanremo dall'ospite d'onore Massimo Tagliata a Roberta Cappelletti passando per Emanuele Alberti, Luca Palazzi Davide Salvi, Giacomo Rotatori Matteo Tortora e Giordano Giannarelli Oltre a questa bella vetrina abbiamo anche all'interno della giara e del locale abbiamo delle esposizioni di fisarmoniche visto che siamo nelle Marche Castelfidardo è la capitale della fisarmonica abbiamo Stocco, Copperfisa, Marchi, Moreschi Brandoni e anche Mengascini per concludere tutto questo programma e io penso che, già lo dico adesso siamo abbastanza soddisfatti anzi direi soddisfattissimi perché insieme ai gestori della giara agriturismo la giara e qua di Santa Maria della Zira abbiamo un sacco di prenotazioni per cui il cibo, il buon cibo oserei dire legato anche alla cultura alla fisarmonica soprattutto è un connubio vincente grazie a tutti